Ora svolgete il quesito numero 8 dell'esame di stato di giugno 2019, cioè questo quesito. Un protone penetra in una regione di spazio in cui è presente un campo magnetico uniforme di modulo 1 millitesla. Inizia a muoversi descrivendo una traiettoria ad elica cilindrica con passo costante di 38,1 cm, ottenuta dalla composizione di un moto circolare uniforme di raggio 10,5 cm ed un moto rettilineo uniforme. Determina il modulo del vettore velocità e l'angolo che forma con B.